Rieccoci con Instant Focus e torniamo a occuparci del mattone dei medici anche se in maniera diciamo la prendiamo da un altro punto di vista o meglio fotografiamo un altro aspetto che riguarda l'EMPAM e quindi la cassa previdenziale dei medici e che in qualche modo si va a sovrapporre ad aggiungere alla questione appunto del mattone dei medici su cui ci sono novità e tra poco ve le riveliamo. Di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di una questione che va avanti e si protrae da anni e che è tornata ad essere attuale proprio in questi ultimi mesi. Lo raccontano anche diversi quotidiani, lo stanno raccontando anche diversi quotidiani quello che vedete è il fatto quotidiano. Guardate questo titolo ad esempio il taglio del 10% degli emolumenti dei vertici EMPAM non basta ai medici in protesta. Ennesima presa in giro. Che cosa sta succedendo? Succede che c'è una denuncia abbastanza forte da parte dei medici, di questi medici in protesta perché i vertici EMPAM, il presidente e i vicepresidenti hanno un guadagno piuttosto importante. Qui è segnato sul fatto quotidiano compenso 2017 di 280.000 euro per il presidente che è Alberto Olivetti, il vicepresidente 95.000 euro di emolumenti insomma con anche un bilancio di tutt'altro tenore. Spiega sempre il fatto 2019 dell'EMPAM che si chiude con 2,971 miliardi di entrate contributive a fronte di una spesa pari a 1,951 miliardi di euro e un avanzo di gestione superiore al miliardo. Cifre interessanti se consideriamo insomma anche la famosa gara di vendita privata che su cui insomma si parla per un valore di circa un miliardo ma di questo parliamo dopo e allora c'è questa protesta forte da parte dei medici e che chiedevano un taglio ben maggiore insomma degli emolumenti dei vertici per un'occasione quella della pandemia dell'epidemia che ha fatto diciamo che ha messo in risalto un altro aspetto e cioè che sostanzialmente prendono al mese i vertici dell'EMPAM quello che i medici sotto pressione insomma che hanno attraversato un periodo molto 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 complicato e difficile insomma in questo periodo di epidemia prendono al mese quello che appunto i medici prendono in un anno e allora da lì c'è stato un tentativo di sensibilizzazione da questo punto di vista che non è andato nel verso giusto anche se lo ribadisco è una questione che va avanti da parecchi anni noi siamo in collegamento telefonico con Piero Benfatto che è un delegato ENPAM di Ascoli Piceno nella fattispecie Piero grazie per essere qui con noi buongiorno buongiorno a lei buongiorno allora la questione ci sono anche alcuni diciamo cartelli alcuni grafici da mostrare che ci serviranno insomma per il nostro approfondimento avendo però fotografato io diciamo gli ultimi sviluppi e le ultime comunicazioni che ci sono state appunto tra voi e i vertici ENPAM appunto ti chiedo anche magari di riassumere sinteticamente quanto è avvenuto insomma voi avete chiesto un taglio ben maggiore insomma rispetto a quel 10% deciso verso fine 2020 ma non perché così insomma vi tagliate lo stipendio così prendete meno quello che veniva tagliato poteva essere impiegato in maniera più virtuosa diciamo così certo in fin dei conti sono denari degli iscritti e quindi potevano essere utilizzati sia per il welfare che su questo devo dire l'ENPAM ha fatto molto nel periodo Covid nei confronti degli iscritti quindi avere a disposizione qualche milione di euro in più non guardava oppure per inserirli all'interno diciamo della gestione dei fondi previdenziali che poi in ENPAM sono 4 ma insomma alla fine il fondo è unico poi su questo diciamo che questa è una battaglia tra virgolette che io e altri ordini pochi per la verità conduciamo da almeno 10 anni un decennio eh sì perché questi compensi dal 92 cioè poco prima che l'ENPAM diventasse una fondazione privata ad oggi sono li evitati in maniera al di poco pazzesca cioè c'è una una evidenza che praticamente l'inflazione dal dal 1992 al 2018 è stata diciamo del 70% circa i compensi sono li evitati quello del Presidente per esempio del 1770% che vi ho dicendo quindi assolutamente fuori linea rispetto a qualsiasi ragionevolezza Piero ti chiedo di ripetere quanto c'è stato il di quanto è stato l'aumento? Allora l'inflazione è stata mi sembra del 71% non te lo chiedo perché non si è sentito te lo chiedo perché forse abbiamo capito male no no se l'avete lo ripeto l'aumento del del Presidente è stato del 1769-70% al netto dell'inflazione insomma ovviamente in base a quanto a quello che cambia in 10 anni a livello di dei prezzi al consumo eccetera eccetera ovviamente sì sì però insomma parliamo di 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 una cifra esorditante gli ultimi monumenti accreditati diciamo al Presidente prima di questa riduzione del 10% erano di circa a spanne diciamo 1000 Euro più 1000 Euro meno intorno ai 650.000 Euro l'anno devo dire che la proposta che avevo fatto io come ordine di Ascoli Piceno insieme a quelli di Campobazzo Ferrara e Piacenza era del tutto congrua perché avevamo proposto per il Presidente uno stipendio uguale a quello di di Mattarella del Presidente della Repubblica di 240.000 Euro l'anno sì sono comunque 20.000 Euro al mese e un costo complessivo di tutti gli organi dell'ente quindi il CDR e visori dei conti e poi se vuole ci arriveremo anche l'Empan Real Estate che è la partecipata che gestisce gli immobili dell'Empan che andava a quasi si avvicina a quasi a 4 milioni di Euro l'anno portare tutto a 1.200.000 Euro il risparmio erano circa no differenza 2 milioni e 8 questi 2 milioni e 8 erano certamente impiegabili in altre attività di welfare o per le pensioni dell'Empan ribadiamo che questi 2 milioni e passa si parla sempre di soldi dei contribuenti quindi dei medici che versano il quanto dovuto per quanto riguarda poi appunto il fondo il fondo pensionistico avevate chiesto un taglio del 60 per cento e che è stato diciamo ignorato e c'è stata una riduzione al 10 quindi non è che non vi hanno proprio ascoltato ma hanno detto vabbè insomma ce lo tagliamo del 10 e pace fatta tra i diciamo i documenti che abbiamo a disposizione c'è quello vediamolo lo vado a recuperare in questo modo ecco qua questo è il diciamo il cartello insomma è il documento che riguarda il bilancio al 31 12 2020 per quanto riguarda il cd a e non soltanto della dell'Empan se è visibile io in questo momento non ho il collegamento video comunque come si può vedere il presidente e i due vicepresidenti prendono un totale di 800 mila euro no? 727 il collegio sindacale il cd a eccetera 800 insomma il totale porta 399 poi aggiunte altre spesette che ci sono sotto il totale effettivo diventa 3 milioni 318 mila e rotti euro ai quali vanno aggiunti altri quasi 600 mila del cd a risori e vigilanti eccetera e di empan real estate che è la società in house dell'empan che gestisce gli immobili e quindi il totale si avvicina a quei famosi 4 milioni di cui stavamo parlando eccolo qua che vediamo anche appunto attraverso le spese per gli organi statuari e collegiali il grafico che abbiamo visto prima riguardava sostanzialmente gli importi che invece sono i costi per la governance aziendale insomma che riguarda quindi l'empan l'onorario di 60 mila il totale di 92 mila per il presidente consiglieri 243 mila poi insomma c'è da fare tutta una serie di somme e questo credo che sia quello di empan real estate perché le cifre di empan sono più alte 60 mila euro allora questo è real estate sì chiedo scusa ok 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 e che punto poi vanno a sommarsi alle cifre che abbiamo già detto e che appunto poi sono si possono vedere anche attraverso questo questo cartello insomma poi sono tutti dati che arrivano anche attraverso insomma i vari fondi immobiliari cioè ci sono tante no tante voci tante voci che vanno a sommare quindi insomma non è che semplicemente è uno stipendio che arriva semplicemente dal dal empan e basta insomma ci sono tante voci no per esempio ci sono i fondi immobiliari partecipati solo da empan che danno degli stipendi al presidente di quasi 150 mila euro l'anno mi sembra sui 70 mila al vicepresidente e poi giù giù agli altri insomma comunque questi si sommano alle 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 cifre che che vengono riportate in bilancio poi nella pagina empan si trovano anche queste voci non so se avete modo di far vedere come i fondi immobiliari di empan spasino delle perdende importanti però quello quello è insomma il discorso è è che a fronte di una situazione retributiva dei medici che in italia forse una delle più basse d'europa gli stipendi di chi amministra la cassa comune ci sembrano oggettivamente stropositati ma fa sorridere perché poi vedo anche che nel cartello dei fondi immobiliari c'è un fondo antirion global al comparto core e non soltanto beh antirion l'abbiamo già sentito proprio l'ambito della questione della gara di vendita empan insomma su cui appunto dopo darò degli aggiornamenti e che al momento ovviamente questa questione degli stipendi e quella del mattone dei medici non vede diciamo collegamenti diretti però insomma ci sarà anche una prossima puntata e cercheremo di approfondire anche questo aspetto insomma il fondo antirion è uno dei fondi in qualche modo coinvolti non direttamente all'interno della gara della gara della gara della vendita appunto del patrimonio immobiliare empan e senti eh Piero per quanto riguarda invece la ehm perché c'è anche appunto una eh una delle pagine su empan si parla di fondazione trasparente eh qui di che cosa si tratta ehm è un link che è presente sulla pagina empan del sito web dell'ente a cui io faccio sempre riferimento perché sono i dati ufficiati dell'ente quindi eh ed è qui ed è da qui che si possono no? tutto quanto tutto quanto credo che io eh avevo segnalato che c'era questa opportunità e mi pare che eh mi sia stata colta di andare proprio a vedere eh all'interno della trasparenza dell'emparm quali sono le cifre oggettive inoppugnabili di cui si parla. No no ma infatti era per spiegare che comunque quelli i dati che abbiamo dato sono non è che siamo andati a prendere chi sarà dove. Sono fonte contenta. Esatto esatto quindi insomma non è non siamo andati a recuperare chissà quali documenti in esclusiva. È tutto trasparente insomma il senso voleva essere proprio proprio questo. Poi insomma abbiamo anche questo è un altro è un altro documento che insomma ci 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 permette di vedere appunto i compensi di cui parlava appunto Piero ehm per quanto va del Presidente i sessantamila che poi si vanno ad aggiungere eh a quelli insomma che ehm ci sono stati insomma e sono stati aggiornati a partire dal 2012 dato che appunto è una questione che va avanti appunto da un decennale ma quello che da un decennio ma quello che volevo chiederti Piero è che avete mai avuto insomma diciamo confronti un po' più diretti nel senso che che a fronte di queste richieste continue insomma in questi in questi anni la risposta le risposte al di là del taglio del 10 per cento ci sono mai state? Siete state semplicemente ignorati? Insomma come viene giustificato a questa diciamo questa questi emolumenti molto abbondanti che appunto superano e di gran lunga insomma quelli del Presidente della della Repubblica ad esempio dato che hai citato il eh lo stipendio di Mattarella? Eh sì guarda ti posso dire che sostanzialmente sono eh diciamo abbastanza ignorati nel senso che la mozione per la riduzione del 60 per cento andava in parallelo con la mozione del CdA della riduzione del 10 chiaramente nel momento in cui si vota se c'è un parlamentino dell'Empra di cento quasi 80 persone se viene approvata prima e presentata prima la mozione di riduzione del 10 e passa come è passata questa automaticamente per motivi civilistici dico a qui non voglio eh eh non so nemmeno eh citare eh esclude le altre per cui l'altra mozione ce ne erano altre due la 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 diciamo la nostra e un'altra ancora che chiedevano riduzione del 20 non sono state nemmeno poste a votazione ma eh lei diciamo l'Empano come giustifica queste cose eh sul fatto che eh è una società che sta sul mercato e quindi si gestisce parecchio denaro insomma parliamo di un patrimonio di eh oltre 24 miliardi di Euro e quindi eh il Presidente soprattutto dice che eh corre dei rischi nel gestire questo patrimonio etc. Ammettiamo pure che sia così anche se Empam ha un investment advisor e un risk advisor che si occupano specificamente degli investimenti molto ben pagati e il Presidente è molto ben assicurato per i problemi relativi alla gestione così come tutto il CBA eh quindi eh la differenza importante però è che non si può rapportare lo stipendio di eh un Presidente di Cassa Previdenziale con quello di un ehm un CEO no? Un un amministratore delegato di una società di gestione del risparmio certo perché se io sono un investitore un soggetto in privato decido di mettere i miei denari in una società di gestione del risparmio vedo come me li gestisco non mi sta bene continuo non mi va bene me li riprendo e cambio oppure la società decide che l'amministratore delegato non è bravo e lo manda via tutto questo in Empam non è possibile la contribuzione è obbligatoria eh i rendimenti adesso c'è stato il Covid ma insomma comunque nell'ultimo bilancio consuntivo parliamo di un 1,6% netto del patrimonio eh intendiamoci del patrimonio mobiliare e immobiliare perché poi entra molto ancora molto denaro fresco delle dei contributi previdenziali il rendimento del patrimonio mobiliare e immobiliare netto è stato dell'1,6% che non è una cosa fantastica ma lo stakeholder cioè il medico non può dire vabbè signori non mi piace come ho gestito i miei soldi mi li ridate e vado da un'altra parte è obbligato a contribuire allora l'ente è una fondazione privata ma ha una funzione pubblica e quindi il rapporto dovrebbe essere con gli stipendi crediamo del pubblico certo appunto abbiamo proposto il massimo livello cioè l'equivalente del Presidente della Repubblica e se può essere comprensibile che il Presidente Empano prenda 240 mila Euro l'anno tutto compreso non si capisce poi perché bisogna pagare due vicepresidenti eh in totale il CDA di Empano eh a 16 persone quello di Empano Real Estate 9 eh altri 6 sono revisori di conti dei due insomma stipendiamo 31 persone per gestire queste due entità se facciamo un paragone con una una società come Stellantis no la fusione tra SCA e Peugeot e Schragler che ha 9 persone ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non quadra cioè c'è un numero estremamente ridondante di amministratori no no beh ma è chiaro e che va ulteriormente a rendere ancora più nitida la fotografia che parte anche solo dal eh questione che appunto i vertici di questa di questo ente eh prendano al mese quello che i medici insomma prendono ehm prendono all'anno insomma poi quest'ulteriore riflessione che hai fatto è anche molto più diciamo ancora più efficace perché poi insomma eh la nostra emittente parla soprattutto ed economia e di finanza e quindi hai fatto una citazione perfetta insomma quella di Stellantis che ha visto una fusione tra due colossi del eh del mercato automobilistico in Europa e che punta a diventare diventerà il quarto quinto eh al mondo insomma se le cose dovessero andare per il verso giusto e la situazione è quella che ci hai quella che ci hai eh spiegato ehm per prima di prima di salutarci ti chiedo perché tempo insomma a nostra disposizione è quasi terminato ti chiedo se ci saranno nuove perché insomma mi pare di capire che l'ultima diciamo l'ultimo contatto e l'ultimo risultato ottenuto è stato il famoso taglio del 10 del 10 per cento che ho mostrato anche attraverso il fatto quotidiano e che è stato in qualche modo commentato da ehm anche da diverse pagine Facebook ci sono con diverse decine di migliaia di iscritti come una presa in giro eh diciamo la prossima mossa quale può essere se ci sarà? Eh questa è una domanda a cui io non so rispondere perché purtroppo questo questi compensi sono stati approvati e varranno per i prossimi 5 anni quindi dal 2021 al 2025 questo è a meno di meno di una rivoluzione copernicana eh all'interno dell'ente che non è nella 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 ragionevole eh prospettiva delle cose eh eh così è così rimarrà eh d'altronde il sistema eh del parlamentino empam è strutturato su gruppi eh di sindacati maggioritari della medicina generale e anche lì c'è un problema poi di rappresentanza che se eh vuoi parlare di lui se vuoi perché è prettamente connesso con questa cosa parleremo in una eventuale successiva eh eh sì occasione e questo blocco ovviamente vota eh quello che decide il vertice eh perché al vertice siedono eh appunto i vertici dei sindacati maggioritari della della medicina generale e quindi non se ne scappa non c'è una maggioranza minoranza sostanzialmente c'è solo una una grande maggioranza. Ok. E le poche voci che eh si levano a segnalare questa cosa eh sì segnalano e rimangono lì. Chiaro e volentieri ci torneremo anche su quest'altro fronte. Io intanto ringrazio Piero Benfatto che con pazienza anche ci ha spiegato insomma qual è la situazione e il caso che lo vedete anche nel nel titolo di questi super stipendi che ovviamente essendo un ente privato può fare quel che vuole ma a fronte di evidenze insomma che fanno storcere un po' il naso e non soltanto si può in qualche modo rendere ancora più virtuoso. Dunque grazie Piero e buon lavoro alla prossima. Prego grazie altrettanto a te e alla tua relazione. Prima di salutarci regia siamo un po' in ritardo ma me ne rendo conto vi chiedo scusa però sul fronte del mattone la novità è che Apollo è il fondo che dovrebbe dovrebbe aver vinto il la gara insomma la gara di vendita con una cifra non è ufficiale eh sia chiaro ma quanto secondo quanto emerge insomma con circa 800 milioni quindi due 200 milioni e passa in meno rispetto a quanto ci si poteva attendere perché ribadiamo insomma l'abbiamo ricordato nelle scorse puntate la richiesta era di oltre un miliardo quantomeno quantomeno la stima attesa da parte di Empam era oltre un miliardo sarebbe di 800 milioni la cifra con cui il fondo Apollo si è giudicato l'asta per l'immobile per gli immobili scusate dell'ente previdenziale. Così è stata superata la concorrenza dei altri fondi che c'era appunto Bain Prelios, GVM Dea Capital, Elsa Fra insomma un portafoglio real estate è composto da 68 edifici di proprietà della cassa dei medici infermieri la maggior parte insomma talmente malmessi e in stato di dismissione insomma che probabilmente costava più rimetterli in sesto che appunto venderli come è avvenuto e come insomma è stata fatta appunto a livello di gara di vendita ricordiamo che sono 31 asset direzionali superficie lorda complessiva di 520 mila metri quadri a cui poi si aggiungono insomma i 10 hotel sparsi tra Roma e Milano e luoghi di villeggiatura nel centro Italia, 5 proprietà retail, una caserma di oltre 90 mila metri quadri per un totale oltre ai 17 immobili insomma a destinazione residenziale sul territorio nazionale per un totale di 250 mila metri quadri in tutto circa un milione di metri quadri con Apollo adesso se Apollo è davvero il fondo che si è ha giudicato la gara di vendita torna a essere attuale molto attuale quello che succederà per quanto riguarda le case e il rischio sfratto che gli inquilini temono alla conclusione del loro contratto naturale quelli che abbiamo intervistato e a cui abbiamo dato la parola nelle puntate precedenti perché si tratta di un migliaio di famiglie che rischiano se il fondo Apollo a questo punto se ha vinto la gara di vendita dovesse far esaurire i contratti e poi mettere a destinare ad altri utilizzi questi immobili a destinazione residenziale insomma che cosa succede c'è una bomba sociale che rischia di esplodere Milano lo sa dato che molti molte famiglie si trovano a Milano e provincia il sindaco sala abbiamo già lanciato un appello attraverso anche il giornalista il giornalista Francesco Flores che per primo in qualche modo ha denunciato e ha sentito puzza di bruciato come a dire questa questa gara di vendita può prevedere e può comportare determinate stranezze insomma sia a livello di fondi interessati ma soprattutto per quanto riguarda il destino di queste di queste migliaia di famiglie che ora non devono fare altro che aspettare l'ufficialità se è vero appunto quanto riportato da questi rumori insomma anche di stampa che parlano di Apollo come fondo che si è andato ad aggiudicare il mattone di Empam. Noi dedicheremo la prossima puntata a fare un po' il punto il bilancio di queste prime cinque approfondimenti che abbiamo fatto sul caso del mattone dei medici dell'Empam che peraltro come avete visto c'è anche un'ulteriore storia particolare che dura da un decennio che ci ha raccontato Piero Benfatto e cioè che sostanzialmente c'è una enorme forse eccessiva differenza tra insomma gli stipendi dei medici mai così sotto pressione e così in una fase delicata della loro professione in questo anno e i vertici che come dire in un mese prendono quanto i medici prendono in un anno. Situazione che era stata anche denunciata da Mediaset lo dico per correttezza qualche mese fa ha approvato Mediaset ad avvicinarsi al presidente Alberto Olivetti il quale però ha detto questo stipendio insomma questi monumenti questo compenso che ricevo e che riceviamo sono giusti sono giustificati dal fatto che il nostro è un lavoro molto molto difficile e che determina insomma diverse pressioni ogni giorno questo è in linea di massima quello che è stato risposto ai colleghi. Io vi ringrazio per averci seguito chiedo scusa alla regia per aver sforato di qualche minuto vi lascio con il resto della programmazione di Le Fonti TV e poi alle 14.30 Alexander Georgeva con i suoi ospiti e i suoi approfondimenti.